ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel matley lab quest'oggi voglio parlarti di investimenti no non investimenti economici perché non sono titolato per farlo quindi non do consigli economici ma mi è arrivato un investimento che ho fatto alcuni mesi fa su un'azienda che realizza stampanti 3d e quindi ho detto quale migliore occasione per far vedere ai miei spettatori l'investimento che ho fatto ma soprattutto gli investimenti perché nel tempo ne ho fatti parecchi inoltre ragazzi da un po di tempo ho iniziato a formarmi sugli investimenti economici quelli bancari digitali e mi sono reso conto di una cosa che avevo già sentito da altre persone del settore cioè che noi italiani su questo tema siamo totalmente ignoranti per mancanza di formazione proprio la base ma anche la mentalità che c'è stata tramandata a parer mio non vi nego che fino a qualche mese fa i miei soldi erano parcheggiati in banca a prendere sole fatto questo switch mentale ho iniziato a documentarmi e vi assicuro che non è necessario essere milionari per fare investimenti bastano anche pochi euro ma soprattutto conoscenza degli settori in cui si vuole andare ad investire o gli asset su cui si vuole andare a investire ebbene all'interno del video ho voluto un contributo anche da una persona altamente specializzata in tema ho voluto realizzare questo video per raccontarvi la mia esperienza e presentarvi le opportunità che ci sono in questo istante periodo storico ragazzi e ho messo la camicia per fare un po di suspense scusate mi so che non è esteticamente bella ma il purtroppo il te lo l'ho ancora a casa l'ho dimenticato quindi copro così andiamo avanti se ripenso gli investimenti che ho fatto in vita mia beh tutto questo poi non esisterebbe perché sono partito all'età di 18 anni circa acquistandomi una canon xl 1 perché avevo sta fissa di diventare videomaker sta passione poi non è andata come speravo quindi l'ho venduta e non ho più avuto un seguito sul settore video successivamente ho poi anche investito in una casa a vent'anni ho acquistato la mia prima casa e se vogliamo però continuare a racchiudere gli investimenti che poi hanno portato a tutto ciò beh ragazzi uno lo avete visto anche voi siete stati partecipi chi è che non si è visto il mio video sull'acquisto delle attrezzature con il cavo corto avevo aperto il canale youtube da qualche mese e le uniche attrezzature che avevo erano quelle nell'azienda di mio papà di fatto il primo video una panca fai da te l'ho realizzata con attrezzature industriali le uniche che avevo a disposizione dopo essermi preso qualche critica nei commenti perché è son bravi tutti a far quei progetti la con quelle attrezzature no però ho detto in effetti non ho attrezzature mie da hobbista e mi piacerebbe averne un po a casa per fare quelle cose che in fabbrica magari ci impiego troppo a realizzare e così volendo investire nel progetto anche se ancora non sapevo quale poteva essere il suo potenziale mi sono detto dai cerchiamo uno stock di attrezzature e l'ho trovato su ebay attrezzature che ho ancora oggi e avevano questa caratteristica del filo corto perché il proprietario non me l'ha mai spiegato non me l'ha mai detto ma penso che il motivo fosse che avesse una prolunga unica a cui poi attaccava tutti questi elettro utensili non era una spina granché performante perché alcune si sfilano facilmente però quella era la sua idea sta di fatto che con 300 euro mi ero praticamente attrezzato quasi l'intero garage avevo trapani cesoie per l'alluminio banchi sega troncatrice che poi la troncatrice nel mio canale non l'avete più vista ma nello stock ce l'avevo di fatti le cose le attrezzature che non mi erano piaciute le ho rivendute andandomi quasi a ripagare l'intero stock pazzesco investimenti poi ho continuato a farne per il mio progetto come ad esempio la pialla filo spessore la prima cnc la bordatrice tutti acquisti fatti per crearne un contenuto e poi un giorno non lontano farò vedere quanto mi ha portato economicamente quel con l'investimento perché alla fine anche questi qua sono stati investimenti tra l'altro ne ho acquistato un'altra a breve video sulla seconda bordatrice la sega nastro il banco fresa realizzato su la fresatrice che acquistai tempo fa cioè ne ho acquistate robe che tutta la parte per la fonderia vabbè ho speso un sacco di soldi se penso agli investimenti però mi vengono in mente anche quelli che ho fatto su kickstarter e chi non conosce kickstarter mi dirà Matteo chi è questo kickstarter kickstarter è una piattaforma in cui se tu hai una idea la metti lì in vetrina e trovi dei finanziatori ad esempio se io ho inventato questo fermo per dire posso dire ragazzi questa è la mia idea la presento lì sulla piattaforma se la acquistate per primi qui ora nel lancio che mi permettete quindi di poterla mettere in produzione perché ancora non l'ho messa in produzione è a voi che la acquistate per primi faccio uno sconto rispetto al prezzo di listino che avrà poi questo oggetto quindi se tu hai realmente bisogno di questo oggetto e sai che vabbè lo dovrai aspettare per un qualche mese poi quando entrerà nel mercato tu lo riceverai perché chi ha ricevuto i fondi e se ha raggiunto poi l'obiettivo prefissato metterà in produzione l'oggetto e quindi ti arriverà l'oggetto mentre poi chi invece lo dovrà acquistare post lancio su kickstarter beh dovrà pagarlo qualcosa di più ci sono aziende che sono nate grazie a progetti lanciati su kickstarter come ad esempio la stepcraft quando hanno lanciato la sua prima serie d che è sotto lì tra un po' la tiro fuori la metto in un banchetto è nata grazie a kickstarter ma non solo anche la snap maker è nata grazie a kickstarter tra l'altro ragazzi mi hanno inviato il quarto asse che tra un po' proverò e poi vi racconterò come funziona anche questa azienda comunque è nata grazie a un progetto su kickstarter e poi è uscita nel senso era autonoma per realizzare nuovi prodotti ma ho anche delle chicche che poi sono sparite dopo kickstarter ad esempio ho il mitico maker knife realizzato da giaco vi ho già parlato di questo progetto quando ero andato da giaco ad intervistarlo quando mi aveva raccontato che aveva prototipato il tutto con la stampante 3d per poi metterlo in produzione è questo oggetto non è più in produzione quindi è un oggetto raro ma non è il solo non è il solo qui ad esempio ho il primissimo oggetto che ho acquistato su kickstarter no questi in realtà li ho acquistati su amazon dopo aver visto le offerte che ho pubblicato nel mio canale telegram mi servivano e se non ho un'offerta approfitto e quindi ne approfitto anche per ricordarvi che nel canale telegram sotto in descrizione trovate le offerte che pubblico ogni giorno offerte vere verificate tra l'altro a proposito di risparmio anche questo video è sponsorizzato da letyshop ragazzi sapete che le collaborazioni all'interno del mio canale ve le porto centellinate e solamente di cui mi fido e questa è una di quelle perché chi non la conosce deve sapere che letyshop è una piattaforma che vi permette di avere dei soldi indietro su degli acquisti che già avreste dovuto fare ad esempio vi dovevate comprare il trapano nuovo ebbene lo acquistate tramite letyshop nei negozi affiliati all'etyshop vi lascio il link sotto per vedere la lista di tutti i negozi affiliati e avete un cashback in denaro non in buoni sconto in denaro stessa cosa per le scarpe dovevate acquistarvi le scarpe nuove bene le acquistate tramite letyshop e il 6 per cento di là e il 7 di là e il 4 di là ragazzi sono soldi quindi vi lascio il link sotto in descrizione per iscrivervi all'etyshop o per installare l'estensione del browser che è quella che utilizzo io anche per controllare se i prezzi che ci sono nei siti non sono stati gonfiati il giorno prima perché mi fa vedere l'andamento del prezzo ma andiamo avanti con la chicca di cui vi parlavo prima che tra l'altro anche questo gadget l'avevo acquistato per realizzarne un video da portare nel canale addirittura c'avevo l'idea di realizzare un format su quei gadget lì i gadget di artigianato digitale poi il format non è mai iniziato eccolo qua eccolo qua ragazzi questo è un dispositivo che andava inserito nel jack dell'audio del telefono quello per le cuffie e si utilizzava per farlo diventare un metro laser cioè il telefono diventava un metro laser che mi diceva le distanze qual è il problema era una bellissima chic ma ogni volta andava tarato se non ricordo male e ogni volta che si inseriva per di più tra l'altro guardate che piccolo guardate che piccolo che che poi qual è il problema che era utilizzabile solo con iphone e per quello non c'è problema io ho sempre avuto iphone ma ora non c'è più il jack audio e quindi dai alla fine sono riuscito a portarvelo in un video quindi dopo cinque o sei anni beh dai ce l'ho fatta bene la rimetto via verrà dimenticata fino al prossimo video comunque anche questa l'ho acquistata tramite kickstarter e prima di acquistarla ci ho pensato un po perché non è mica acquistata quanto il misuratore laser adesso vi faccio vedere esatto ragazzi ho acquistato la creality cr30 è una stampante 3d rivoluzionaria perché come piatto di stampa non ha un piatto che si muove ma un nastro che avanza e quindi le stampe possono essere infinite se ti ricordi di cambiare il filamento quando finisce l'ho acquistata proprio per crearne il contenuto poi da portare nel canale youtube mi è costata qualcosa che non avrei mai acquistato per mio le mie necessità perché ne ho già le stampanti però volevo portarvi questa nuova tecnologia nel canale quindi ho detto vabbè investiamo sti soldi su un video che uscirà in futuro perché devo assemblarla l'ho acquistata per portarvi il contenuto e come quella volta della ender 3 anche questa volta volevo essere libero da vincoli contrattuali e poter essere trasparente nella descrizione poi della macchina quindi dirvi ragazzi è stupefacente pure ragazzi è una cagata pazzesca è arrivato il momento dell'ospite ragazzi come vi avevo detto all'inizio del video ho iniziato a fare alcuni investimenti finanziari ho voluto quindi chiedere ad una persona altamente esperta del settore finanziario globale un parere su quelle che sono le opportunità che si possono accogliere soprattutto per noi del settore ed ecco che vi presento quindi luca di scacciati di investire.biz ciao matteo e grazie per avermi invitato in un tuo video io sono luca di scacciati del sito investire.biz e mi occupo di investimenti e trading online uno dei modi migliori per decidere dove investire i propri soldi è quello di individuare dei trend che sono in procinto di partire o che sono iniziati da poco per individuare questi trend che in gergo vengono chiamati mega trend dobbiamo andare alla ricerca di quelle tecnologie che consentono di migliorare i processi produttivi già consolidati o che addirittura permettono di fare cose nuove che la tecnologia precedente non permetteva di fare questi cambiamenti queste nuove tecnologie queste rivoluzioni partono sempre in piccolo ed è proprio guardando i tuoi video che si capisce per esempio come una tecnologia come quella della stampa 3d potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per diverse economie la stampa 3d permette di avere un minore impatto ambientale visto che lo spreco di materiale per la creazione di oggetti è davvero minimo permette la creazione di oggetti complessi e parti meccaniche impossibili da creare con la tecnologia attuale come la stampa la fresatura grazie alla programmazione delle stampanti è possibile creare migliaia di oggetti uno diverso dall'altro senza avere i costi degli impianti che incidono negativamente sul prezzo finale dell'oggetto la rivoluzione della stampa 3d però non si ferma l'industria con queste stampanti è già oggi possibile stampare del cibo è possibile stampare delle protesi la verità è che non esiste un settore che non verrà rivoluzionato dalla stampa 3d ed è proprio questo che rende la stampa 3d un settore un trend molto interessante per gli investimenti tra le aziende attive in questo settore quotate in borsa sulle quali già oggi possiamo investire troviamo per esempio x1 3d system corporation due aziende che producono proprio stampanti 3d per l'industria un'altra azienda sulla quale possiamo investire per esempio è hp colosso da oltre 40 miliardi di capitalizzazione in borsa è stata una delle prime aziende al mondo a capire il potenziale della stampa 3d che dire matteo continuerò a guardare i tuoi video e cercherò di scovare tra le tue novità il prossimo mega trend su cui investire ciao a tutti grazie infinite luca ragazzi sotto in descrizione vi lascio il link al suo sito e i suoi canali youtube se volete andarlo a conoscere meglio io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi la vostra sulla tematica sono l'unico che si è svegliato tardi sulla potenzialità o anzi sul valore degli investimenti ma anzi anzi a vediamo vediamo questa scrivetemi sotto nei commenti ripensandoci quanto avete speso di investimento con le attrezzature che vi siete parcheggiati nel vostro laboratorio ecco bene ragazzi smartellate pollice in su e vi do appuntamento a sabato prossimo perché anche sabato prossimo video bomba e con un ospite ci vediamo sabato perché ogni sabato c'è il video di matri ciao